Protocollo di intesa tra il Comune dell'Aquila e il Dipartimento dell'Università degli Studi di Firenze per una collaborazione di supporto al restauro e alla riabilitazione funzionale dei centri storici della scala architettonica a quella urbanistica. Il Dipartimento di Restauro dell'Università di Firenze ha offerto a seguito dell'accordo stipulato nel gennaio scorso la disponibilità a dar corso a una collaborazione ancora più stretta tra Comune dell'Aquila e progettisti pubblici o privati. Come annunciato oggi dall'assessore comunale all'urbanistica Roberto Riga. Il progetto aderisce al programma UNESCO dedicato per l'anno 2012 al paesaggio storico urbano con il titolo Salvaguardia e valorizzazione dei paesaggi storici urbani aquilani colpiti dal terremoto del 6 aprile 2009 per l'iscrizione al patrimonio mondiale dell'umanità.